...dai volando... Bella Kiko! Non li vuoi sentire, non li spunevamo... ...ci hanno fatto una crisi, ci hanno fatto una di quei test... ...che era più dura... ...che ci hanno tirato in Giappone, sì... ...è tirato con tutto il cuore... Qual è il posto comunque che mi è piaciuto di più in assoluto? ...come persone, penso a me di tutte le Filippine... ...della povertà... ...della povertà... ...